Allora, sono felicissima di questa esperienza, la rifarei subito praticamente, nonostante la stanchezza. Sono arrivata grazie ad una mia collega che mi ha parlato di questa esperienza che lei già aveva fatto online. Quindi ovviamente con voi, con la vostra presenza non avevo ancora avuto questa possibilità. Mentre qui abbiamo avuto la possibilità di viverla in diretta e sono stata fortunata perché ho avuto per la prima volta la possibilità di conoscervi dal vivo. E quindi per la prima volta ho conosciuto Ricchezza Vera e per la prima volta li ho visti dal vivo, il massimo. Grazie. Sia ad Anna Maria che a José che sono fantastici. Bene, sono terminati questi tre giorni. Sono stati tre giorni davvero ricchi, intensi e trasformativi sotto diversi punti di vista. A livello pratico sicuramente abbiamo fatto tantissime trasformazioni che francamente ero un po' scettica di riuscire a fare. Invece ce l'ho fatta con successo e tuttora proseguirà il mio percorso. Conosco Anna Maria José non da tantissimo, dall'anno scorso. Ho cominciato a seguirli perché sento che è la mia strada. E questo corso è stato, diciamo, un'altra svolta lungo il mio percorso di crescita. E lo suggerisco vivamente perché si fanno delle esperienze così profonde che raramente fuori si possono trovare. E il tutto in un clima gioioso, amichevole, di profonda accoglienza. Ecco, tutto qui. Grazie. Ciao, io sono Enrica e in questi tre giorni con José e Anna Maria sento di aver riequilibrato moltissimi aspetti del mio ambito professionale. Quindi di essere passata molto più dallo stress della mente al sentire nel cuore. Porterò questo nel mio lavoro di tutti i giorni, quindi verso il mio staff e anche verso tutti i miei cari. È un cambiamento molto molto importante per me. Grazie. E come pensi che la tua vita cambierà adesso che torni a casa? Con una maggiore consapevolezza di alcuni comportamenti da cambiare, il meglio ovviamente, e alcune credenze limitanti che erano ancora da distruggere e sono state distrutte. Thank you. Thank you. Mi chiamo Giorgio Filippini e vengo da Verona. Cosa dire? Beh, intanto sono rimasto stupefatto. Devo dire la verità. Io sono uno che ha fatto un sacco di corsi, che ha fatto di tutto e di più, come si dice, in 30 anni della mia vita. Come l'ho scritto anche nella testimonianza scritta, il fatto di dire delle cose con leggerezza è la prima volta. Serietà bella. Serietà ma senza pesantezza. Arrivi alla sera che hai avuto notizie, su notizie, informazioni, incredibili e ti senti leggero. Dal punto di vista poi trasformativo, posso dire bomba, una bomba, una bomba, quando facevo le meditazioni andavo via, poi lui ha presentato, non so se posso dirlo, una musica, è una cosa incredibile, io di riprogrammazioni sicuramente ho fatto decine e decine. Aspetta, le riprogrammazioni le fa Anna Maria e basta. Parlavo di riprogrammazioni dal punto di vista di audio, di suoni, binaurali, in questo senso, ne ho fatte, quell'audio lì è una bomba, una bomba. Grazie mille, ho dato, hai dato tanto. Ciao a tutti, sono Elisa, vengo da Palermo e sono felicissima di essere qui perché grazie a Anna Maria, grazie a Giuse, sono riuscita a ritrovare quella persona che avevo perso a strada facendo e quindi ho ritrovato Elisa Soresi, ho ritrovato me stessa, grazie. È stato un crescendo di emozioni, raccontarlo così in pochi minuti è difficile, però voglio soltanto dire che è stato un crescendo di emozioni, quindi non posso sintetizzarlo così in tre secondi, è bellissimo, stupendo, sono veramente arricchita di vita. Grazie Elisa. Grazie a te. Non so cosa dire, però sono stati tre giorni veramente intensi e hanno superato le aspettative che avevo, anche perché sapevo che sarebbe stata una cosa molto particolare, però sostanzialmente non sapevo cosa avremmo fatto. E' stato bellissimo perché le persone che sono venute secondo me si sono trovate tra di loro, c'è stato uno scambio di energia veramente forte, ci siamo divertiti un sacco e ci sono state delle esperienze veramente intense. Che è stata veramente qualcosa di forte, da non riuscire nemmeno a trattenerlo. Ciao a tutti, io sono Claudio Campesato, sono un consulente marketing e sono venuto qui perché aspiravo a un evento, cercavo un evento che fosse incline con le mie vibrazioni, con quello che sento, con quello che provo. E con Giusea e Anna Maria ho trovato quello che cercavo, insomma un clima veramente bellissimo, delle vibrazioni bellissime, tre giorni veramente creati, co-creati insieme con Giusea e Anna Maria. Io insieme con gli altri abbiamo fatto tante cose, tante trasformazioni, meditazioni, riprogrammazioni, proprio abbiamo messo le basi per un futuro migliore, per un nostro nuovo inizio. E soprattutto il momento clou è stato quello dell'audio, è stato un momento pazzesco in cui gli occhi si sono ripiti di lacrime e il cuore è iniziato a battere fortissimo. Questo per me è stato il primo evento con ricchezza vera, sicuramente ne farò altri perché ne vale la pena. I contenuti che sono stati espressi, sono stati espressi in maniera intelligente, amorevole e in maniera professionale da entrambi, sia da Giusea che Anna Maria. Anna Maria poi è stata la nostra mamma, ci ha coccolato e ci ha accompagnato in questi tre giorni che non sono stati solamente in aula ma anche fuori. Quindi vi invito a venire ai prossimi eventi di ricchezza vera e da Claudio un grande saluto e un abbraccio. Grazie.